Forte respiro rapido, il titolo del libro che Marco Risi dedica a papà Dino coincide con le ultime parole scritte dal grande regista in un biglietto poco prima di spegnersi a 91 anni. Così uno dei principali artefici della commedia che ancora oggi fa scuola al mondo del cinema riportava alle proprie condizioni di salute. Non lo faceva da cineasta, bensì da medico, perché era questa la sua formazione originaria, da milanese di nascita e romano di adozione, destinato a cambiare vita e missione per firmare capolavori quali il sorpasso, i mostri, la marcia su Roma, una vita difficile, diventando pioniere di quella italianità che nessun'altra espressione artistica ha saputo interpretare, esorcizzare e comprendere meglio del cinema e dei suoi maestri di quegli anni, Monicelli e Risi, poi Pietrangeli, Germi e Scola. A farsene cantore è il figlio Marco, ospite del premio Chiara, erede di una visione che nel passaggio generazionale si è trasformata e caricata di un talento rispettoso, ma svincolata dall'ombra del maestro. Come raccontato a Mauro Gervasini, Marco ha scelto altre vie, altre narrazioni, altri stili. Ha iniziato nei primi anni Ottanta con la commedia leggera, per poi imboccare il cammino dell'impegno, avviato con soldati, esploso come eri per sempre ragazzi fuori, sublimato nel suo personale capolavoro, il muro di gomma, e sfociato tra l'altro in quel vero e proprio gioiello intitolato Fortapache, dedicato alla vita e all'assassinio del giornalista Giancarlo Siani. Nella puntata di Cinamando in onda martedì 19 ottobre, proporremo alcuni stralci dell'interessante dibattito in scena a Villa Recalcati, cominciando dai ricordi e dalla reazione del padre di fronte ai primi film di Marco. Quando ho fatto il mio primo film, naturalmente lui lo andò a vedere e mi disse, ma non era un complimento, sei un professionista, che secondo me non era un complimento perché avevo capito dall'occhio che diceva, vabbè sei fare un film, però che film è questo? in fondo un filmetto. La prima volta che mi guardò con stima e sincero orgoglio fu Dovomeri per sempre. Quello lo andammo a vedere insieme a una proiezione per la stampa estera quando Sergio è una cosa del globo e alla fine della proiezione lui era veramente molto contento, non ce l'aspettava. Ah, così. No, non ce l'aspettava e fu veramente un bel momento quello.